Continuano senza sosta le vaccinazioni contro il Covid-19 destinate agli operatori sanitari di Marche Nord, un'organizzazione che ha portato a somministrare fino a 400 dosi di vaccino al giorno, come afferma il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera pesarese Edoardo Berselli. Abbiamo concluso la vaccinazione di tutti i dipendenti che al primo giro hanno dato l'assenso. In questi giorni stiamo continuando la vaccinazione per i dipendenti che nella prima mandata non avevano dato l'assenso, ma poi avendo visto il buon esempio dei loro colleghi, di noi che ci siamo vaccinati e visto che non c'è stato nessun effetto negativo, ma solo effetti positivi, un po' alla volta stanno dando l'adesione. Per cui anche oggi e domani vaccineremo, per noi vacciniamo a scartamento ridotto perché oggi ne facciamo 60, domani ne faremo 60 e siamo arrivati a farne più di 400 al giorno. Facendo questi elevati numeri siamo riusciti, come dicevo, al 6 gennaio a fare più di 1.500 dipendenti e abbiamo vaccinato tutti dalla prima adesione. Però che cosa facciamo? Consci dell'importanza del vaccinarsi, stiamo chiamando uno o uno i dipendenti che o hanno detto no in prima battuta o non hanno espresso nessuna dichiarazione né per l'essere vaccinati o non essere vaccinati, di modo che nessuno potrà dire che è rimasto escluso. Noi siamo 2.088 dipendenti più 400 dipendenti delle ditte che accedono a Marche Nord e che ci siamo fatti carico di vaccinare per proteggere sia loro che i malati che da noi vengono ricoverati. In questi giorni chiudiamo tutto e farò una data di last call il 18 gennaio. E noi col 18 gennaio abbiamo preso tutti. Coloro che hanno espresso la volontà, la non volontà di essere vaccinati sono 90, ma di questi 90 i veri non vaccinatori, chiamiamoli così, che non vogliono essere vaccinati, sono una cinquantina perché gli altri sono dipendenti che hanno già avuto il Covid, magari l'hanno avuto in maniera recente e aspettano prima di fare una vaccinazione, in quanto comunque hanno una protezione anticorpale. Avendo finito noi tra l'altro i nostri dipendenti abbiamo offerto la nostra disponibilità anche per vaccinare i dipendenti dell'Azur. Tant'è vero domenica 10 e domenica 17 vaccineremo più di 800 dipendenti dell'Azur. Terminate invece le vaccinazioni per quanto riguarda i dipendenti Azure, che cosa succede dopo? Allora, innanzitutto bisognerà fare i richiami, perché voi immaginate che 2.000 vaccinazioni uguale 2.000 richiami, quindi in realtà abbiamo già prenotato date e quant'altro, con la stessa organizzazione che è vincente faremo i richiami a 21 giorni dopo quelli che sono stati vaccinati. Quindi già i primi vaccinati, il Vax Day che era stato il 27 se non sbaglio, il 18 di gennaio riceveranno i richiami. Il consiglio che do a tutti i dipendenti comunque in questo momento, fino a quando non avete fatto la seconda dose e sono passati 7 giorni, comportatevi negli atteggiamenti come se foste a rischio totale, ma anche dopo faranno la stessa cosa. Diversi passaggi da effettuare prima di ricevere la dose, a partire dalla compilazione della modulistica necessaria per ricevere la somministrazione del vaccino. Abbiamo un punto presso la formazione dove cominciamo a consegnare la modulistica, in quel momento il dipendente segna la parte anagrafica, quindi come si chiama, comincia ad autocompilare tutte le domande che vengono richieste dal Ministero per valutare lo stato di salute, quindi un'autocompilazione su eventuali allergie, altre cose. Una volta compilato accede, viene registrato, abbiamo cercato di gestire i flussi sia perché non ci siano aggregazioni di troppe persone perché altrimenti da una parte li vacciniamo, dall'altra li aggreghiamo, vengono registrati dal punto di vista amministrativo, dopodiché accedono a una delle stanze di anamnesi del medico, il medico ha un colloquio con il singolo dipendente e va a valutare se ci sono delle condizioni escludenti o particolari precauzioni da prendere nella vaccinazione, se è tutto ok accede alla stanza vaccinale. Nei momenti clou abbiamo avuto addirittura 4-5 medici che facevano l'anamnesi e abbiamo avuto fino a 8 postazioni vaccinali. All'interno dell'ospedale di Muraglia, dove avviene il processo di vaccinazione, è stata inoltre allestita una camera bianca, un locale completamente sterile dove avviene la ricostituzione delle dosi. Dalla singola fiala vengono estratte 6 dosi di vaccino sotto K in maniera assolutamente sterile. L'altra fortuna è aver potuto organizzare il punto di preparazione attaccato al punto di somministrazione, per cui basta scendere a una scala, questi vaccini arrivano imbustati, sterili e vengono somministrati immediatamente. Quindi c'è un totale rispetto sia della catena del freddo, sia della sterilità. Ci tenevo a ringraziare tutto il personale che si è dato disponibile, che sono venuti tutti in maniera volontaria e c'è stato un bellissimo lavoro di squadra, di organizzazione. Quindi se voi vedete ci sono amministrativi, infermieri, medici, farmacisti, tutti che lavorano insieme. E questo è stato secondo me il valore aggiunto che ci ha permesso di raggiungere questi numeri.